Onorevole Piscitello, parte il Movimento Unione dei Siciliani, un movimento, un soggetto politico a forte trazione autonomistica. Ecco, in Sicilia quanto è importante avere un soggetto politico che possa rivendicare queste prerogative? Guardi, noi abbiamo in Sicilia tutti gli indicatori economici e sociali molto negativi rispetto a tutto il nord del nostro paese, questo è figlio evidentemente di un modello di sviluppo che è stato deciso dalle classi dirigenti, soprattutto quelle del nord del nostro paese. La differenza da altre regioni autonome qual è? Che quelle altre regioni autonome hanno avuto un movimento politico che difendeva gli interessi della loro regione, della loro area. In Trentino c'è la Suttirore Fospartà, in Alto Adice c'è l'Union Valdotene, ma in altri posti d'Europa che hanno le stesse nostre caratteristiche ci sono partiti nazionali che difendono il territorio. In Sicilia non c'è mai stato, abbiamo bisogno di un movimento politico che difenda gli interessi della Sicilia e dei siciliani, abbiamo bisogno di un movimento politico che rivendichi fino in fondo l'attuazione di tutti i diritti iscritti dello statuto, abbiamo bisogno di smetterla con una serie di affermazioni tipo che non ha nessuna responsabilità, ma se venisse applicato saremmo una delle regioni più ricche d'Italia, perché quello statuto fu ottenuto dalla Sicilia dopo una pesante battaglia per la rivendicazione, non è che fu un regalo, fu un percorso che noi ottenemmo, fatto anche col sangue di tanti siciliani, noi abbiamo bisogno che venga attuato, se quello statuto viene attuato con tutti i diritti che sono all'interno, noi potremmo essere una regione che inverte il meccanismo negativo che si è determinato negli ultimi decenni e si avvia verso una stagione di sviluppo. Quanto è importante al di là dei contenuti avere un peso elettorale per poter poi trattare con Roma? Avere un peso elettorale è importantissimo, noi alle regionali abbiamo, perché c'è una legge elettorale molto rigida anche alle politiche, abbiamo fatto un accordo con il centro-destra e abbiamo individuato questa alleanza, però è con Forza Italia, però per noi è importantissimo che alle prossime elezioni amministrative, alle prossime provinciali siamo presenti con il nostro simbolo e quindi poi a tutto il resto delle elezioni, perché è importante avere consenso per poter dimostrare la propria forza e chiedere ed è importante che il popolo siciliano e i siciliani costruiscano una forza politica che sia maggioritaria, che rappresenti davvero la Sicilia. Alla guida del movimento ho un esponente che adesso è al governo, nella giunta musulmane ci parliamo di Gaetano Armau, vicepresidente che sta portando avanti questa battaglia a livello siciliano per imprimere questa caratteristica dell'autonomia. La sua presenza è importantissima, noi conosciamo già le battaglie che il professore Armau fece quando era assessore del governo Lombardo con i famosi contenziosi che fece contro lo Stato, di cui poi avremmo vinto ma per i quali il nostro ex governatore Crocetta in maniera malevola ha rinunziato facendo disperdere moltissime risorse per la Sicilia. Quindi chiaramente è il nostro punto di riferimento ed è quello che appunto ci porta anche a dare fiducia a questo governo di centrodestra che ha sposato quelle che sono le nostre idee, al contrario dei governi passati che erano dei governi che, proponiamo tutti, non hanno fatto altro che continuare a depauperare la Sicilia. Come sta rispondendo il territorio agrigentino rispetto a questa novità? Allora, noi abbiamo già una bella esperienza vissuta su ben due anni. Noi qua in provincia di Agrigento abbiamo una bella base di persone che hanno interesse esclusivamente a far rivalutare lo statuto siciliano, statuto siciliano che praticamente fino ad oggi non è stato mai applicato e soprattutto nella sua parte finanziaria, cioè quegli articoli che daranno la possibilità di riscatto economico a questa nostra terra. Grazie. 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 Grazie.